Ritorniamo di nuovo insieme con un altro ospite, abbiamo veramente un giovanissimo oggi ed è bello accogliere anche i giovani con le loro iniziative. Abbiamo Alessandro Lipera, buon pomeriggio Alessandro, come va? Buona sera a lei, tutto bene. Tutto bene, allora so che fai parte di un'associazione, Nuovi Studenti. Devo dire che questa associazione si occupa anche di far conoscere, di dar vita alla nuova politica, nuove idee per la politica, è vero? Sì esattamente, infatti il nome lo dice appunto. Io ho contribuito a fondare questa associazione il novembre scorso. Qual è il fine di questa associazione? Oggigiorno non ci sono più i partiti politici, non ci sono più le giovanili di partito. Vogliamo far assomigliare il meno possibile la politica giovanile alla politica dei grandi, perché oggigiorno la politica dei grandi per noi piccolini non è più un esempio da seguire. Infatti cerchiamo di armare un'associazione di ragazzi che oggigiorno non si fa sulle ideologie, che magari le ideologie del Novecento potrebbero essere la destra che ti potrebbe spiegare un ideale di legalità, o la sinistra stessa, più estreme. Oggigiorno non c'è più questo. Ci sono le idee giuste, le idee sbagliate. Noi vogliamo creare dei momenti di aggregazione, dei momenti in cui i ragazzi non corrotti da dei beceri movimenti, come potrebbero essere quelli che ci trasmette la politica dei grandi, ma corrotti dall'entusiasmo, corrotti ovviamente in senso buono, possono fare del bene per la nostra comunità. Bene, cosa organizzate in effetti? So che fate anche dei corsi? Sì, noi facciamo dei corsi, perché appunto per rifarci a questo ideale vogliamo creare un movimento di ragazzi a cui piaccia far parte di un organo giovanile, di un organo studentesco, come potrebbe essere un consiglio di istituto, come potrebbe essere la consulta provinciale degli studenti. E per far piacere questo un ragazzo deve sapere le cose basilari, il ditto costituzionale, magari la nostra costituzione. Una prima impronta di quello che è la politica. Sì, esattamente. Ma i giovani di oggi, ecco, come vedono questa nuova strutturazione del governo? Ma la vedono diciamo in modo molto sommario, non sanno nemmeno chi ha vinto le elezioni, perché i nostri politici non ce lo sanno nemmeno dire loro. E se posso farti una domanda un po' particolare? Ecco, abbiamo le tre forze che sono salite, quindi tu verso dove vai tra queste tre forze? Ma il movimento uno dei studenti non si esprime in sue le tre forze. Io se le posso dire... E non si identifica nessuno dei tre? Nessuno dei tre, è un movimento apartitico infatti. Le posso dire su chi avrebbe potuto, voluto convergere se ci fosse stato, diciamo, un movimento politico. Matteo Renzi sicuramente è la persona alla quale ci riconosciamo nel migliore dei modi. Sia per, non tanto per il suo partito, ma tanto per le idee e per l'entusiasmo che è riuscito a trasmettere durante le elezioni delle primarie. Mi piacciono le tue idee, veramente molto diretto. Per Catania, per esempio, ecco, cosa bisogna cambiare e poi, o siamo vicini alle elezioni, che tipo di sindaco vedresti? Questa è una domanda molto difficile. Io mi aspico un sindaco, non dico giovane al punto di vista anagrafico, ma giovane nelle idee. Un sindaco che magari riesca a creare, diciamo, degli spazi di aggregazione tra i giovani. Infatti il nostro Consiglio Comunale ha deliberato tre, quattro anni fa, se non sbaglio, l'attuazione, diciamo, delle comunità giovanili. Però ancora, diciamo, queste comunità giovanili non ci sono, non sono state create. Ecco, ma da che cosa dipende? Ma questo dovremmo dire, diciamo, ai nostri organi elettivi, sinceramente. Allora si spera nuove elezioni, con nuove, diciamo, aree diverse, insomma, con funzioni diverse, attività più per i giovani? Sì, sì. Però questa, diciamo, la voglia di novità non ci deve portare nella protesta, ci deve portare nella proposta. Bella, mi piace questa idea, veramente. Complimenti ad Alessandro, che ha le idee veramente chiare. Più che a me, complimenti, dobbiamo fare ai ragazzi di questa associazione e fortunatamente, diciamo, alle ultime elezioni studentesche siamo riusciti a radicarci in buona parte delle scuole catanesi. Speriamo, diciamo, io sono di maturità, speriamo di poter portare, diciamo, all'interno della terreno catanese questo messaggio. Quali iniziative si prospettano o cosa avete fatto nel tempo? Ma noi adesso ci prospettiamo di continuare il percorso delle piazze pulite, con l'associazione, in collaborazione anche con i club Interact, abbiamo pulito simbolicamente le piazze Verga e piazza Nettuno, che sono, diciamo, delle piazze Verga in modo particolare, ma le piazze non rientrano nei piani di pulizia del comune. Successivamente vorremmo andare anche, diciamo, a pulire le piazze, diciamo, dei quartieri più disagiati e la città. E fammi un esempio, quale per esempio? Eh, penso, gli esempi, diciamo, ne abbiamo di tantissimi, comunque Librino, in primis, diciamo, E' quello che avendo tu, magari, ecco, più esattamente. Sì, anche per ritornarci, diciamo, al filone, comunque, il muro della bellezza, comunque, tutte queste iniziative, diciamo, a Librino hanno lasciato un impatto importante, vorremmo anche noi partecipare per dare il nostro contributo. Quanti siete in questa associazione? Ma, un'assima non l'abbiamo fatta, siamo radicati comunque in dieci scuole, diciamo, nella provincia catanese. Non avete una sede fissa? Ci appoggiamo, diciamo, sulle sedi dei genitori, magari c'è chi ha il papà medico, ci presta l'ufficio, chi ha, anche, da noi abbiamo partecipato al rischio. Ah, col papà avvocato, giustamente, guarda caso, belle iniziative, devo dire. Allora, invece, tu mi dicevi che si prospettano per giugno qualche altra cosa, qualche altra attività? Sì, dovremmo, appunto, continuare con il percorso di Piazza Pulito, ora, ancora, siamo in un periodo di studio, purtroppo, adesso... Se i giovani, avendo visto questa tua attività, vogliono avvicinarsi a te, cosa fare? O alla tua associazione? Sì, tramite Facebook è molto semplice. Tramite Facebook, cosa fare? Cercare di? Ho il mio profilo, Alessandro Libero, oppure il profilo dell'associazione, che è Nuovi Studenti, semplicemente, lo si trova. Allora, io direi di aggregarci veramente, perché ho ragazzi in gamba, quindi, associazione Nuovi Studenti, su Facebook, ho Alessandro Libero. Grazie per il tuo intervento in gamba, veramente, continua così, idee veramente giuste e, secondo me, dobbiamo dare spazio anche ai giovani, è giusto che sia così. Ma adesso, Avvocato, sai che facciamo? Vediamoci il video di quella sera che siamo usciti, eh? Vediamolo insieme. Avvocato, ma dove mi sta portando? Qua è un posto fantastico. Fantastico? Ma dove siamo qui? Siamo all'Ostierre, una volta si chiamava Tramezzino, adesso è l'Ostierre. L'Ostierre. C'è uno, il titolare qui, che oltre ad essere un amante della gastronomia, poi sommelier, è una cosa, un uomo raffinato. Mamma, è meraviglio! Oh, ma guarda un po'! Buonasera! Buonasera, piacere. Pronte le bottiglie? Bene, allora entriamo. E' sobbio, ma è chic nello stesso tempo, poi è una persona che lo fa con passione questo lavoro. Questo locale esiste da otto anni circa, con una gestione mia, e da dieci anni prima era un'altra gestione, un altro locale. Si chiamava il Caramezzino. Su che cosa si mira quel locale? Su che cosa ha centrato? Ma diciamo che su un ambiente molto tranquillo, dove si può bere il buon bicchiere di vino, si può bere il tagliere di salumi particolare, e si può anche cenare volendo. E il piatto forte? Non c'è un piatto forte, noi non facciamo pesce, però siamo specializzati più sulla carne, diciamo. Tipo, per esempio, che cosa consiglierebbe stasera? Stasera c'è un ottimo stracotto albarolo, c'è un hamburger di chianina, con guanciale proprio di maialino di cintasenese. Variamo spesso i piatti, non c'è un piatto specifico che teniamo sempre in carta. Avvocato, dobbiamo assaggiare anche queste cose? No, ma lui è un tipo modesto, eccetera. Per me è un'enoteca eccezionale, qua non ci sono vini italiani o esteri che non sono presenti, quindi il piacere veramente di degustare. Il vino migliore che avete? Ce ne sono tanti, bisogna vedere. Andiamo dai grandi super Tuscan, che sono i Sassicali, i vari Ornellaia, anche eccellenze nostre siciliane, che possono essere i vari Franchetti, che può essere il Cantante, i Vigneri di Salvofoti, i Faro Palari. C'è tanta roba da bere, il mondo del vino è vario, ci sono tante cose, non si può dire una sola cosa buona o i migliori, c'è tanta roba buona. Hanno tanta varietà, poi oltre al locale, loro vengono chiamati spesso per fare del catering, per esempio organizzo una festa a casa mia con 30-40 persone, magari mia moglie non se la sente di cucinare per tanta gente. Pronto Maurizio? Ecco Maurizio, pronto. Sì, 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 è vero o no? Bellissimo, bellissimo. Ottimo, ottimo, un profumo meraviglioso. Avvocato, ma che sta facendo? C'è troppa gente, me ne vanno da casa. E si porta le bottiglie? No, le ho pagate. Ah, le ha pagate, le ha pagate, va bene, possiamo andare. Andiamo a casa mia. Eh sì, ma sì, festeggiamo, andiamo. Siamo di nuovo insieme, veramente ridacchiavamo simpaticamente sul video, eh? Devo dire che lei è veramente avvocato, gli piace il vino, è un buon intenditore, eh? Bene, bene, Totò avvicina, avvicina a farci. Oh signora, le ha arrivato l'omba! E che ha portato anche soldi? È di buon auspicio. Ah, è di buon auspicio, bene, bene, che ce ne siano tanti, ma tanti di questi, e ce ne vogliono. Bene, bene, prego, prego, prendete pure, avvocato, non faccio complimenti, Dario. Ma mentre voi mangiucchiate, vi faccio così, ecco, presento i due ospiti di oggi, che completeremo così la trasmissione. Abbiamo con noi il presidente provinciale Archigay, Calogio Giovanni. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, e insieme abbiamo anche un insegnante che si chiama Santa Fresta. Buonasera. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, oggi siamo qui per completare quell'argomento sull'Archigay. No, no, volevi che si... E parlavamo, Dario, a te la parola a questo punto, no? Certo. Eh, discutavamo a volte a scopo che ci sono delle divergenze, ecco, tra questi gruppi e magari con la chiesa, per esempio, eh? Eh, sì, infatti. Ma non sono delle divergenze, sono completamente delle cose opposte. Però non c'è oggi, qui abbiamo la persona più deputata a raccontarci un pochettino quale sono, diciamo, le posizioni della chiesa, e le posizioni anche di Archigay, sia il comitato di Catania che quello nazionale, perché il professore Caloggio è anche consigliere nazionale di Archigay. Quindi io direi subito di dare la parola. Allora, per chi non sa che significa, perché può capitare, che cos'è l'Archigay? Professore, io lo spieghiamo. Allora, l'Archigay è un'associazione di carattere nazionale, composta da militanti, volontari e volontari, che prestano la propria attività, il proprio servizio politico di militanza, a titolo assolutamente gratuito, e ha dato vita a una rete estesa su tutto il territorio nazionale. Noi contiamo circa 60 comitati territoriali. Il comitato territoriale è quello che presiede una provincia o più province. Catania, per esempio, da me dipende anche Enne e Caltanissetta, perché lì non esiste un comitato territoriale specifico, per cui sono accorpati a noi. e ogni comitato svolge, il nostro statuto è abbastanza ampio e molto articolato, consente delle autonomie e libertà a ciascun comitato di prendere delle iniziative, ovviamente con un raccordo nazionale che sia all'unisono con la politica che noi facciamo nelle scuole, per la sanità, per i diritti. Per i diritti. Esatto. Diritti che magari qui in Italia sono diversi, ecco, stiamo parlando di diritti acquisiti, rispetto all'Europa, è vero? Assolutamente. Già in Italia, però, lo scorso anno, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha deliberato che nulla osta al matrimonio anche tra persone same sex, cioè persone dello stesso sesso. Il problema, la Cassazione, l'ha rinviato al Parlamento. Non è un problema di legge o di costituzione italiana, l'articolo 3 è chiarissimo al riguardo. Il problema è che abbiamo un Parlamento che non è stato in grado e non ha voluto, per ragioni specifiche, per ragioni molto articolate e molto particolari, assumersi la responsabilità di promulgare una legiferazione che desse disciplina all'argomento dei diritti di fatto delle coppie e dei relativi di tutto quello che ne scaturisce, perché se io convivo o sono in unione di fatto con un'altra persona ho sicuramente i miei diritti, ma sicuramente ho anche dei veri, perché nel momento in cui la coppia finisce e come per le coppie eterosessuali ci sarà l'obbligo del mantenimento del partner più debole, dell'assistenza, la reversibilità della pensione, eccetera. Il problema non è tanto della Chiesa, perché la Chiesa fa il suo mestiere, la Chiesa che cambierà, perché sappiamo che la Chiesa in 2000 anni lentamente, ma lentamente, ma cambia e si adegua. Abbiamo speranza che questo nuovo Papa, non perché io voglia fare propaganda per questo Papa, perché la sua pubblicità, il suo proporsi in un certo modo potrebbe anche ai malpensanti far prefigurare un'azione anche di propaganda. Io non so bene, nessuno di noi sa bene quanto quello che questo Papa ci sta facendo vedere sia reale o sia un maquillage politico dell'immagine desueta un po' della Chiesa. Nel tempo vedremo chiaramente e ci faremo via chiara. Ma il problema non è il Vaticano, non è la Chiesa, perché se io lascio la porta di casa mia aperta e lei fa il ladro, lei farà bene a fare il suo mestiere, entrare a casa mia e rubare. Sta a me non lasciare la porta di casa aperta. È il Parlamento che deve legiferare i partiti che debbono assumersi queste responsabilità e devo dire che nemmeno i partiti dell'arco del centro-sinistra sino ad oggi hanno avuto questo scatto di reni e assumersi le responsabilità. La stessa proposta che stiamo leggendo in questi giorni del segretario Bersani che è sicuramente interessante, costituisce un passo avanti, ma il modello tedesco non è esattamente la piena equiparazione del matrimonio. Se siamo di cittadini tutti uguali davanti alla legge e alla Costituzione, anche il matrimonio deve essere esattamente uguale per tutti quanti. Non è un problema di nominalismo. A me personalmente il matrimonio non frega nulla, proprio non sono interessato. Tanto per fare una nota di colore, come diceva Paolo Poli, io nel mio letto preferisco un marinaio e non un marito. Questa è una nota di colore. Non sono interessato. Però è giusto che chi si vuole sposare, chi abbia questo istinto, questa tentazione, debba soddisfare anche questa esigenza. E lo Stato laico deve rispettare anche queste esigenze. Se è vero, come è vero, che la Costituzione, l'articolo 3, promulga la piena parità dei diritti e l'uguaglianza dei diritti. Il principio d'uguaglianza. Io vorrei dire una cosa in proposito, non sono contraria per il matrimonio, però sono contraria per una cosa, essendo io un docente, sono contraria al fatto che una volta avvenuto il matrimonio si possono adottare dei bambini, perché si danno degli esempi sbagliati in quanto la coppia non è una coppia tradizionale. Quindi questo secondo me è un appunto, proprio perché… Questo è un argomento, devo dire, un po' scottante. Molto, molto scottante. Che in effetti già abbiamo in qualche modo tastato la scossa, trasmissione e devo dire che non è facile da gestire, è vero, è vero. Avvocato, io vorrei sentire anche lei a questo punto. Allora, io sono per la libertà, per la libertà, quindi se uno vuole sposare, un uomo vuole sposare, un altro uomo, una donna vuole sposare, un altro uomo, non lede certamente i diritti della collettività, eccetera. Ma il discorso non era tanto, la libertà. Allora, ma ci arriviamo, ma ci arriviamo. Seguirei la natura, può capitare a un giovane uomo di rimanere vedovo. Quindi ha della prole minore, rimanere vedovo. E magari ha un fratello, diciamo. Questi figli, questi bambini che scerebbero con lui e il fratello. Se l'ha stabilito la natura, che questo può succedere, a volte capita. lo zio, lo zio. E infatti io non riesco ad avere, ho questa forma mentale, non riesco purtroppo a dissociarmi, non riesco ad avere pregiudizie nei confronti di alcunché. È più forte di me, quindi io non... Ma poi, come principio, non sono... A forse per la resta che porta o... Non è la mia forma mentale, proprio. Sono fatto così, sono per la libertà. A volte può capitare che i tuoi genitori etero stanno male di testa, ad esempio. È una cosa molto più grave. Quindi lascerei alla natura. Se capita un'esigenza del genere, capitano due donne, due uomini, vogliono adottare dei bambini, hanno quel requisito d'amore. Io non ci vedo nulla di male. Ovviamente non sono il profeta, quindi posso anche sbagliare. Certo, però gestire due papà, un bambino, è complicato, devo dire. Perché ce lo fanno apparire così i media, i due papà, le due mamme, le due mamme. Non penso che dirà papà, le due persone, il bambino. Infatti, dove c'è amore, penso che un bambino cresca. Questo è anche vero, questo è anche vero, sì. La base importante è che ci sia l'amore. Esatto. E Totò, avvicina, avvicina, porta un po' di limoncello. Assaggiamo qualcosina così, magari il nostro linguaggio si scioglie meglio, magari con un po' di alcol. Questo lo lascio. E sì, magari ai nostri ospiti, ecco, diamo anche qualcosina, facciamo assaggiare così anche per l'ora, si scioglie bene il linguaggio, così siamo più diretti, no? Prego, avvocato. Poi tornando al discorso, ci sono coppie eterosessuali che veramente… Signore, ho finito il giro! Scusi, ho finito il giro! Eh, ho finito il giro, veramente, veramente, proviamo questo, avvocato, prenda, prenda. Andando proprio alla grande! Ma neanche ci ho provato! Ma sì, ma sì! Alla signore, alle signore. Allora, dicevamo, quindi, l'argomento, ecco, sarà molto delicato, è molto delicato, quindi bisogna in qualche modo capire, ma torniamo, facciamo un passo indietro, perché devo dire che questo è un po' più complicato, io lo tratterei magari con un psicologo, perché lì veramente da trattare, ecco, con i guanti. Io farei rispondere un attimo al professore Caloggio, alla signora, sul discorso dell'adozione, velocissimamente perché abbiamo altri argomenti. La signora parla di natura, sarebbe il caso di definire, cara signora, cos'è il termine natura, che cosa è naturale e cosa non è naturale, cioè innaturale. Per me, e credo per molte persone come me, non necessariamente legate al segmento sociale dell'omosessualità, del mondo LGBT, è naturale l'affettività, come diceva giustamente l'avvocato libera, dove c'è affetto, dove c'è un sentimento, dove c'è un amore, lì c'è natura. Per cui se due persone dello stesso sesso decidono di adottare un bambino, una bambina, non ci possiamo porre il problema se lo chiameranno papà, papà, mamma e mamma, ma li possono anche chiamare per nome. E sappiamo, e l'avvocato che è abbastanza conosciuto a Catania, quindi di cose ne sa, sappiamo che dentro le mura domestiche della famiglia naturale, tradizionale, avvengono cose turche, omicidi, violenza, violenza del marito sulla moglie, della madre sui figli, eccetera. Dai dati statistici che noi abbiamo, di cui siamo in possesso, sappiamo che una crisi di adozione, una crisi nell'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali può provocare solo un eccesso di affettività, perché conoscendo bene i miei simili, so quanto questi riverserebbero un eccesso forse di affetto, di iperprotettività, di iperaffettività verso i ragazzi adottati. Però volevo precisare un'altra cosa, l'Archie Gay, perché pensavo e riflettevo le cose che diceva il giovanotto che c'era prima di me, Alessandro Libera, e l'Archie Gay non si occupa solo di matrimonio, di diritti, di pride, eccetera. L'Archie Gay è un'associazione politica che produce cultura, produce pensiero, produce politica. Lui giustamente ha detto, ha parlato delle ideologie che vengono superate. Il solco politico nel quale noi ci muoviamo e intendiamo muoverci a Catania in particolare, ieri sono stato una, non dico dove, ma una convention che riguardava il turismo e la cultura a Catania da parte di un gruppo che si sta proponendo alle prossime amministrative e ho fatto un intervento al riguardo. Le ideologie ormai da tempo che sono finite, l'ideologia comunista, l'ideologia socialista, l'ideologia fascista, eccetera. Oggi ci sono dei modelli sociali e politici più trasversali, che vanno a colpire sensibilità e culture diverse. Noi, come Archie Gay, abbiamo il dovere e la sensibilità di cogliere in questo movimento trasversale, soprattutto nei giovani, non necessariamente gay. Infatti la nostra sede qua, che è in via Vittorio Emanuele 245, è aperta a tutti. Noi accogliamo… Non c'è spazio pure per noi etero. Assolutamente siete benvenuti. Siete benvenuti. Io direi di fermarci qui perché purtroppo il tempo vola, soprattutto con questo argomento. Io non so se devo mandare la pubblicità. Sì, mandiamo la pubblicità.